All'inizio era proprio ma questi ma che cazzo fanno? Poi dopo un po' anche Tony così, noi più grandi, non riuscivamo nemmeno più a dire che una roba era fastidiosa, cioè era colta l'ironia, abbiamo confuso tanti rapper e tante persone nell'ambiente discografico, io gli avevo presi subito il simpatia per questo perché mi piaceva il modo slam, lui è stato uno dei primi, ti ricordi io è stato uno dei primi esatto che un po' per ridere tipo mi facevo le foto con la bandana e c'avevo pischeletto d'arco, mi piaceva il slam, ma colta l'ironia poi, lui pure cracco sei un bufo mi sa, Allora ragazzi, siamo qua per un'altra bella chiacchierata, il secondo episodio di Burning Steps, parliamo solo ed esclusivamente di musica, moda e scarpe. Siamo qua con Amy Schill e con Pyrex che mi sembra di capire che siamo arrivati, abbiamo proprio colto nel segno con te perché mi sento di dire che avete fatto diciamo della moda, abbiamo fatto vendere tantissime sneakers, avete fatto il vostro cavallo di battaglia proprio dello stile in generale, avete fatto il vostro cavallo di battaglia. Sì, 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 a voglia. Parto dicendo una cosa che magari tanti non sanno, tu sei di origine americana, possiamo dire tranquillamente americana, quindi sicuramente avrai avuto qualche esperienza e avrai vissuto questo rapporto con la moda, con le sneaker in particolar modo, con l'hip hop e tutto questo in una maniera sicuramente incisiva. La differenza magari dei miei colleghi, il rap non è che io l'abbia proprio scoperto ma ha sempre fatto un po' parte della mia cultura, tramite mia madre, la mia famiglia in America e quindi ero sempre abituato a questo lifestyle. Che tra l'altro è figo perché, ce ne accorgiamo sempre quando andiamo in America, lì è proprio intrinseco, cioè non è legato per forza all'hip hop, è veramente una cosa, ci capita spesso, ti capita spesso quando sei in giro per New York e di vedere anche gente di età, magari adulti, adulti, gente di 60 anni, con dei tassisti ai piedi che tu dici, cazzo no, il pensiero di vedere. Infatti la cosa che a un certo punto mi faceva sbroccare è che quando andavo negli States, vedo modelli di sneakers che in Italia non si trovavano, che poi tuttora non sono mai usciti, un sacco di Nike Boots, non so se avete presente, tipo lo stivale Nike, oppure per un sacco di anni in Italia non sono mai arrivate le Fompo Sight, che sono una sneakers fighissima che ho sempre voluto, quindi era divertente andare là e comprarsi tutte queste sneakers che in Italia si trovavano col cazzo, quindi io tornavo in Italia e facevo il figo. Le Fompo Sight sono la prima scarpa che mi sono comprato quando siamo andati a New York, perché io me la ricordo… È proprio una scarpa new yorkese quella? È una scarpa solo new yorkese e tuttora in Italia quando la metto tanti mi dicono… Che cazzo è quella? Tra l'altro tu capiti proprio, cioè come generazione, come percorso, capiti proprio nel momento boom di questo esploit sia della moda nella musica, che c'è sempre stato, ma è sempre stato un po' più sottile. Adesso è proprio una… come dire, sono quasi incollate. È un po' un binomio. Ti faccio un nome di una scarpa che secondo me sicuramente cavalca un periodo in cui voi stavate incominciando, dico voi perché parlo del tuo collettivo, anche se lo sto parlando con te. Se ti dico Yeezy Red October. L'unica raffle alla quale io abbia partecipato di sneakers era questa, stavo proprio a New York. Questa era uscita in occasione della release di Yeezus, il disco di Kanye West, che era uscito proprio mentre io stavo a New York e ho comprato il CD e se tu compravi il CD potevi mettere il codice del CD dentro il CD Nike e sperare di vincere sta cazzo di Red October, che ovviamente non ho vinto, però… Ha dato… Kanye ha dato il via comunque proprio a questa cosa qua del… L'hype. L'hype, sì, il droga. Tra l'altro mi sa che Kanye sta per collaborare con Jordan, ho visto… Ho visto delle cose… Lui, Khaled e Jordan, sì, c'è nell'aria una… che non so se sarà una scarpa o magari una linea di abbigliamento, non so, comunque c'è nell'aria qualcosa. Cioè penso che è una cosa che tra i giovani d'oggi, cioè penso gli interessi quasi più di quanto interessano noi le sneakers, sì, oltre che della musica, stanno proprio in fissa sempre su StockX. Diciamo che io ricordo che vedevi, magari vedevi l'artista vestito in una certa maniera, tu nell'insieme dicevi, ah cavolo, cioè ti piaceva lo stile, ti piaceva il mood, ma non ti soffermavi magari a guardare se la maglietta era questa, la scarpa era quell'altra. Noi questa cosa è anche un po' a colpo nostro, perché noi proprio all'inizio spingevamo proprio tipo guarda che cazzo di sneakers ho, capito? È vero, è vero, avete calcato la mano proprio. Ma prendevamo tipo, c'è stato un certo punto in cui Nike ci regalava proprio tipo le sneakers, tipo così, prendevamo questi modelli di sneakers, tipo in realtà anche magari bruttini, no? C'era un paio che si chiamava Talaria, che erano tipo da tennis, fatti tipo con il tessuto della pallina da tennis, e io e Tony avevamo deciso di spingere tipo a buffo, capito? Perché era una sneakers. Ah, proprio come dire, vediamo se riusciamo a spingere le... Guardo le Talaria, sì esatto, così. Ne hanno vendute, eh? Secondo me sì, però. Comunque voi eravate tremendi, perché ogni cacata che dicevate diventava slogan, capito? Dal capello, dalle robe, cioè avete influenzato veramente. Ogni cacata diventava uno slogan. Ebbene, allora qui adesso... Ma sono divertente però, no? Bellissimo. Hai dato uno spunto interessante per parlare di una cosa. Abbiamo parlato di Kanye, di Nike prima, Nike, Kanye e poi Kanye e Adidas ovviamente. Quindi a dimostrare che un artista può essere anche, non soltanto un bel manichino a cui tu metti addosso delle scarpe, ma anche proprio in prima persona un creativo che ci mette del suo, no? Voi avete fatto collab, proprio anche cose dove avete... Sì, collab ne abbiamo fatte diverse. L'ultima mi pare fosse con Bershka, però di sneakers credo non abbiamo mai avuto il piacere di disegnare una sneaker o una scarpe. Vi sarebbe piaciuto? Ti sarebbe piaciuto? Sì, 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 è decisamente una cosa che prima o poi ci piacerebbe fare. Se vuoi sapere che emozione si prova, ti presento uno che ha avuto la fortuna di disegnarne ben due, che è emiliano. Sì, beh, noi in realtà abbiamo fatto queste collaborazioni, vabbè, la prima fu quella con Diadora, quando, ecco, in quegli anni lì era quasi un tabù, no? Ti ricordi a me? Mi chiamarono dicendo guarda che c'è Diadora, ti vuole dare un bel po' di soldi per fare delle sponsorizzazioni e io inizialmente ci pensavo, non sono convinto perché comunque nel nostro ambiente di Diadora era ancora vista come una cosa un po' whack, non era figa, diciamo, come magari non ha i quali, quindi ero molto esitubante. Poi in realtà la collaborazione si rivelò proficua sotto tanti punti di vista, anche quello economico, se vogliamo, senza mentire, e anche divertente perché poi era bella, andavamo in azienda, ci prendevamo la briga comunque di dire guarda bella sta scarpa, però questo colore non mi piace, fa a me l'uguale, solo a me, però tipo questi colori ce la facevano. Sì, è bella soddisfazione. Era molto affermatizzato il modello basket, quello un po' più, diciamo, omettibile che si sposava questo look, hanno fatto tutte le varianti di colore, studiavi il packaging. Comunque non erano male perché mi ricordo quando abbiamo iniziato a lavorare con Luke forse anche lui aveva il Dial di Adora. La nostra, cioè la capsule che avevamo fatto con me erano molto belle, avevamo fatto sia quelle rosse tutte laccate e poi il box tipo pitonato, il coccodrillo, mi pare che avevamo fatto quelle bianche e quelle nere, erano un box di due modelli di scarpe, quelle erano molto belle, le ho messe anche tanto. Mentre parlo mi viene in mente un'altra roba, tu ne hai tre di collaborazioni, perché tu hai fatto anche una Luxury Sneaker, che poi è una cosa di cui parleremo anche del mondo Luxury. Tu hai disegnato una sneaker quella con Doce Gabbana, è vero, che babbo. Che esce un po' dal mondo, che esce un po' dal mondo street, però l'hai proprio disegnata. Erano pure fighe quelle. Quella l'ho proprio disegnata, avevo portato i modelli fatti a mano, i pennarelli, le street tutte fatte da me, le tappe, poi loro ovviamente le hanno riprodotte su scala, diciamo, ne hanno fatte un po' e sì vabbè che ad oggi è sicuramente la collaborazione più prestigiosa che ho fatto da quel punto di vista lì, no? È il brand più importante con cui ho avuto modo di interagire fino a questo punto. Ragazzi, pausa musicale perché dalla regia ci mandano un input. Questa è una tua selezione, questo passaggio, questa barra è una tua selezione. Come mai? Questa qua, no, non so come ci sono finito su questo pezzo, prima che voi mi invitaste, perché stavo guardando un po' di roba vecchia di Lil Wayne, mi ricordo che mi piacero la storia di Lil Wayne, su questo pezzo che ai tempi facevano molti di questi pezzi combo, ti ricordi di J.K.A.L.D. con tipo dieci rapper, adesso stavo leggendo infatti la scaletta l'elenco interminabile. Adesso sono molti di questi pezzi in realtà, cioè, terribile, capito? Però i beat erano tipo questi qua, un po' l'Alex Luger. Gli albori della trap, poi. Esatto, brevissimo. Cioè, è stato il seguito del South e il pre-trap. Esatto, esatto. Che nasce tipo tutto da Waka Flockard. È un po' quel filone di Atlanta, è un'evoluzione del filone di Atlanta. Tipo un medioevo, sì, un po' un periodo di mezzo. Inascoltabile, però parla di Jordan e poi se senti ci sta un flow, c'è andava proprio questo flow, sai che nei periodi musicali del rap magari ci sta un flow che poi tanti rapper riprendono e riutilizzano in questo pezzo e puoi sentire esattamente il flow è come cazzo, vabbè, non mi ricordo. Però c'era questo flow che in pratica è stato abusato da chiunque in quel periodo. Poi fortunatamente questa wave è finita perché se senti questo beat qua, ragazzi, è tipo orribile. Guarda, era figa questa roba, mi piaceva. Tutti i repagni, mettevano 200.000 voci anche nelle strofe, venivano queste voci grandi così. Pezzi da quattro minuti e mezzo. Esatto, sì. Mi interessa avere un punto di vista vostro su una roba. Non siamo arrivati anche però a un punto che, soprattutto con il passaggio di Kanye ad Adidas e quindi tutto il discorso Yeezy già dalla seconda, diciamo, edizione per dire della 350, è stata una cosa fatta di proposito. L'idea di portare la scarpa a un po' più di persone, no? Quindi il passaggio tra la 350 che guardavamo prima e questo è stato fatto perché Kanye ha deciso che, secondo me ha deciso che voleva fatturare di più, no? Però tendenzialmente ha deciso che avrebbero dovuto, dovrebbe esserci stata la possibilità per più persone di avere una scarpa sua. Quando una scarpa, secondo voi, arriva, ce l'hanno veramente tutti, ma anche nel nostro settore, anche nell'ambito artistico vostro, anche tra colleghi, perde fascino, rimane figa e te ne sbatti soltanto per come è o comunque la ricerca di qualcosa che non tutti possono avere comunque ha il suo fascino e quando diventa... Ad esempio a me, lo dico chiaramente, bippate se dico una roba, a me ha rotto il cazzo la 350. Io non ho mai avuto questa sneakers qua, ho mai avuto questo mutalo, penso di essere uno dei pochi, a me piace e non ce l'ho, per esempio. C'ho le altre, quelle simili, c'è una che è molto simile... No, le hai, hai detto su quelle che hai canato numero? No, c'ho una che è nera con il basso beige per ritendere... Ah, rossa, ok, altro colore, però questa è bella. Allora, le più belle secondo me sono questa e quella nera con la scritta rossa e basta, di questo modello qua. Io c'ho quelle così, però tipo senza il basso arancione, chiamiamolo basso, insomma, senza la banda arancione, e poi c'ho quelle nere con la banda beige, capito, no? Però non ho nessun colore di questa, nessuna colorway, ma proprio il modello. Tipo nera mi sarebbe piaciuta, perché io di base indosso sneakers nera e rossa. Perché sono comode, non perché, insomma... Sono comode se azzecchi il numero. Esatto, io lo sapevo che i numeri di queste qua sono tipo un po' sfalsati. Una febbre per questo, a un certo punto ne usciono tipo una al mese. Secondo me tanta gente neanche sapeva... Ma anche la roba di... È quello che volevo dire prima. Poi penso che ci vedremo, però... Sì, ci arriviamo. Anche lì da un po' mi sono rotto e ho detto basta, me ne frega più niente. Ormai tanto non è più una roba... Ma te le spingono talmente tanto e tipo dopo tre mesi non ti frega più un cazzo, cerchi già qualcosa... Ma io sto dicendo un sacco di parolacce, ma forse non si può. Tranquillo. Comunque, sì, dopo tre mesi, insomma, non ti interessa più e cerchi qualcos'altro. Cioè cerchi sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che stanno indossando tutti quanti in quel periodo. Ad esempio un Sacro Graal, che è la Meg, quella di Ritorno al Futuro. Che ho usato come telefono. Esatto. Era qua che ti volevamo testare. In quel momento lì avete deciso appunto di fare il video di Sportwear nello store di Nike. Sì. Chi vi ha consigliato? Come mai avete deciso di incentrare una roba così? Perché in quel periodo avevamo questo accordo non ufficiale con Nike, dove chiaramente gli abbiamo dato tantissima visibilità. Io sinceramente non so se oggi ci sarebbe... Probabilmente sì, però magari noi abbiamo accelerato il processo nel coinvolgere i giovani a un po' la cultura dello streetwear. È anche un po' a merito nostro. Cavoli. Tu sei umile, però credimi, te lo dico io da fuori. Sì, parecchio. Guarda che il binomio infatti adesso sotto diranno oh ma che cazzo dice... Comunque il fatto di parlare di queste cose nel momento in cui abbiamo parlato delle Yeezy eccetera non è casuale. Avete cavalcato e siete riusciti a portare questa cosa, secondo me, a un livello, diciamo, i primi forse in Italia che hanno fatto davvero... Che hanno spinto così tanto. Che hanno spinto così tanto. Sì, sai cosa io penso? Che era talmente tanto naturale. Per noi era tutto talmente tanto un gioco che la gente ce lo percepiva molto, no? perché c'era davvero poco di costruito. Cioè a noi ci piaceva fare... Cioè ci divertivamo tra noi, quindi il modo in cui ci divertivamo... Ma ti confesso che all'inizio era proprio... Ma questi ma che cazzo fanno? Poi dopo un po', anche Tony così, noi più grandi, non riuscivamo nemmeno più a dire che una roba era fastidiosa. Era colta l'ironia. Abbiamo confuso tanti rapper e tante persone nell'ambiente discografico. Io ne avevo presi subito il simpatia per questo perché mi piaceva il modo slam. Lui è stato uno dei primi. Ti ricordi? Io è stato uno dei primi, esatto, che un po' per ridere, tipo mi facevo le foto con la bandana e c'avevo un pischeletto d'arco. Ma colta l'ironia poi... Lui pure è cracco se è un bufo, mi sa. Sì, cracco se è un bufo. Sì, sì, a me piaceva il modo di parlare che avevano perché adesso poi i puristi ovviamente mi daranno le coltellate dopo questa, però mi ricordava in tempi moderni e molto più ironici quello che ai tempi invece in termini molto più seri e musicali fece di sangue misto con il fatto dello slang, no? Ok. La porra, tutta questa roba qua, no? Sì, proprio quel modo di parlare che usavano. Il fatto, sì, esatto, di dire, avevano uno slang tutto loro, no? Che poi negli anni hanno riprodotto anche un po' i dogo, anche loro avevano la sgrilla. Sì, 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 a voglio. E poi si è arrivati con questa roba, no? Cioè, appunto, il pischeletto dark, bufu. Ma i dogo, la differenza secondo me è che tipo i dogo erano molto periferia milanese e Milano, quindi ti ritrovavi... Voi, cioè, a Roma non parlano come... No, prelevate molto comunque dall'America voi. No, noi... Ma in realtà erano proprio cose, sai, tra amici... Le cazzate che dici quando giochi alla PlayStation a casa. Esatto, erano proprio le cazzate che dicevamo tra di noi. Poi era un po' di slang romano misto un po'. La roba tipo quanto cazzo sono british, io ti giuro. Cioè, quel periodo lì è stato, secondo me, l'apice... dell'influencer dark polo che... Cioè, non so come dire, cioè, io beccavo... Veramente, una volta sono andato a fare un video, forse stavo facendo il video di serio con Plaza. Ok. E tipo nel camerino eravamo a cambiare, c'era la stylist. No, in quel momento eravamo tutti il cazzo di frangente. Cioè, così... Ah, sì, mi ricordo. E la tipa fa tipo... Eh sì, fa per tipo... Una roba tipo british, così. Minchia, ma... Cioè, fino a qua siamo arrivati. Cioè, non è soltanto una roba di ragazzetti. No, no, quella è arrivata ovunque. Eravate andate pure a radio DJ, no? a parlare di... Penso che ce l'hanno fatto dire ovunque, tipo... Immagino. Dai, venite qua a dire quanto cazzo sono british. A dire quanto cazzo sono british. No, è stato, se posso permettervi, il vostro punto di forza. Ti dirà una roba, magari è un po' brutto di dir così, però è sincero, più della musica in sé. Cioè, il fatto di... Quest'identità, diciamo... Questo è stato anche un po' un problema a un certo punto. Beh, però mi pare che state rimediando, nel senso che adesso comunque state tutti facendo i vostri progetti solisti. Sì, sì, sì. Cioè, poi nel tempo comunque tutti siete migliorati, perché comunque siete usciti magari in maniera prematura e vi siete fatti notare prima per questa cosa, no? Del modo di parlare, lo slang, l'essere sul pezzo con lo stile, così, no? Poi però nel tempo comunque sta arrivando anche della musica, no? Cioè, penso all'ultimo disco di Tony, per esempio, è un bel disco comunque. Sì, anche quello di Gwen è fighissimo. Che non l'ho ancora ascoltato, lo farò. Sento perché è fighissimo. Sì, sai, noi in realtà stavamo parecchio tempo in studio, però Sportswear l'abbiamo fatta, secondo me, in meno di un'ora, in 40 minuti. Cioè, la pompiamo? Un pezzettino di Sportwear. Come no? Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Non fa mai male. Ce l'abbiamo. Voi avete segnato, cioè avete, nel vero senso della parola, calpestato un percorso che è stato il passaggio tra la sneaker intesa come la Jordan e la sneaker di lusso, che è diventato un vero e proprio stato simbolo, è diventato un'ostentazione quasi più dei soldi. Io che sono molto più anziano di voi, avevo qualche sneaker di lusso in passato, si limitavano magari a Gucci, Vuitton, e se tu eri, magari come me, già un po' un esaurito di moda, ti compravi quella sneaker, ma in un momento controtendenza, in cui comunque tutti avevano ancora l'Air Force One, la Jordan. Anzi, a tratti eri un po', eri un fighetto magari per un ambiente hip hop. Sì, quella bamba di Gucci, quella con la fascia, tipo, qual'era? Tra l'altro figa, avevo una sneaker di Gucci, quella con il coccodrillo intorno, che avercela adesso ancora piangerebbe, da qualche parte in cantina, da qualche parte dovrei averla. Comunque è vero, ho detto una cosa grossante, è vero, una volta la sneaker di lusso era una roba per pochissime. Sì, sì, è bello. Perché non piaceva neanche come gusto, non so come spiega. No, perché poi l'interiore avevamo quella sneaker lì col pelo dentro di Gucci, perché io ce l'ho ancora quella, decalda, che era una figata, cioè era una roba comunque da figo, però non è come... Non calzava con il look magari medio hip hop, no? Non era sinistro, era più largo, c'erano le scarpe che fanno... Sì, sì, adesso hanno mischiato il lusso e la strada, no? Sì, sì, adesso sì. La Gucci di una volta... Anche questa cosa è un po' un dispiacere, che sia di brand di lusso, che un po' quelli streetwear, presentano un po' alla fine tutti quanti... Tutta la stessa cosa. Gli stessi fit, la stessa cosa. Sì, guarda anche le daddy shoes, tutte queste robe qua che sono venute negli ultimi anni, le forme comunque... Infatti, ragazzi, è proprio questa parola che detesto, che volevo arrivare. La daddy shoes. Sì, per me a volte è una rottura di palle, perché... Secondo me è figa, perché ti permette comunque di vestirti con un brand appunto lussuoso e comunque non ce n'è, cioè quando comunque dietro a un modello di scarpa c'è uno stilista, comunque un creatore di tutto rispetto, lo vedi poi anche nei dettagli, nella qualità della scarpa, quasi sempre, cioè alla fine ripaga. D'altra parte per me è fastidioso, perché poi mi trovo magari delle persone che non c'entrano assolutamente niente con la cultura urban e quindi con questo contesto anche musicale, se vogliamo, io comunque sono molto legato al mio ambiente musicale, ti ritrovi vestiti come te, capito, un po' sei geloso comunque di quella roba, no? Certo, comunque di quella cultura che ti appartiene, che la cattina loro. Nell'ultimo periodo se tu guardi, fighettini, fighettine, anche magari la ragazzina, Roma è una scarpa da bariolino. È diventata, esatto, la Jordan 1 è diventata proprio, è diventata il mocassino. Esatto. È diventata il mocassino, è vero, è comunque. Questo è un po' l'effetto collaterale diciamo, però tutto sommato è bello secondo me, cioè questo ha dato molta più alternativa e anche proprio a noi, nel senso quando andiamo a comprare, comunque sempre tornando al discorso del Polo Gang, no? C'è stato quell'anno in cui proprio pompavate di brutto quei maglioni di Gucci. Sì, mi ricordo. Super, no? Super colorati, belli anche in un paio, sì, li avevo comprati, no? E mi ricordo quando proprio, quando ero da Gucci, no? A comprare questi maglioni dicevo, cazzo, va che roba, no? Cioè adesso possiamo entrare da Gucci e c'è un sacco di roba che sta bene a noi, no? Una volta se entravo, non dico che la roba era da vecchio, però... No, no, certo. Ma inizia tutto, infatti, più o meno nello stesso periodo, no? Sì. Non c'è anche Gucci che faceva streetwear così tanto proprio street. Ma anche oltre a scena, i rapper in America infilavano un capo ogni tanto, mi ricordo, all'interno però di un outfit che era completamente di impronta street. In Fresh Dressed, che è un altro documentario bellissimo che era su Netflix fino a un po' di tempo fa, raccontava la storia proprio di come la cultura del lusso, diciamo, cioè quella di strada, si sono incontrate. E c'era quel designer che non mi ricordo mai come si chiama, che era una leggenda di strada perché customizzava i capi proprio così, cioè lui comprava anche... Dapperdon. Dapperdon, bravissimo, cioè lui prendeva proprio le stoffe, le robe originali e customizzava, cioè le attaccava sui giubbotti, su quello e su quell'altro. Tu pensa, per farti capire il giro che ha fatto. Ma tipo era illegale, cioè era una roba massima. Dapperdon ai tempi fu denunciato da Gucci. È andato in causa. È andato in causa e a distanza di vent'anni... Ha collaborato. ...è stato chiamato come direttore creativo di quella parte, quindi gli hanno ridato la possibilità. La roba era pure fighissima tra l'altro. Sì, perché lui cosa faceva? Lui prendeva i tessuti di Gucci e dava dei capi che erano fatti su misura... Cioè volevi un giubbotto antiproiettili di Gucci. Esatto, ce l'avevi. Lui lo poteva fare, volevi un piumino che sembrava un Moncler ma di Newton. Anche Sniggers faceva, metteva il baffo con... E lui te lo faceva. Fatti era fighissimo. Che poi, se vogliamo, è quello che poi anni dopo, con molto più criterio, nel senso perché comunque aveva anche i mezzi per poterlo fare, ha fatto un po' Virgil. Tu hai conosciuto Virgil, tra l'altro? Sì, noi l'abbiamo conosciuto, credo fosse una sfilata di Marcello Burlon. Mi ricordo che un giorno ci segui su Instagram, credo per Sportswear, perché inizialmente segui soltanto me, Sicklook e Tony. E quando ce ne siamo accorti siamo infatti su Instagram. Poi dopo due giorni ho aggiunto Sideway. Quindi eravamo impazziti, tipo io Tony Sicklook, tipo se è Sportswear, capito? Io ti giuro, pagherei per essere tipo nella tarpola di quel periodo lì e sentire le cazzate che dicevano queste, ragazzi. No, però se non sai quanto ritevamo, ritevamo proprio tantissimo. E poi l'abbiamo conosciuto a una sfilata di Marcello e poi da lì abbiamo iniziato a incontrarli in giro a Parigi, un po' ovunque. L'ho visto l'ultimo altro a New York quest'estate, a una sua festa. Ci ha sempre mostrato molto rispetto. Ha parlato di noi in determinati articoli. Spesso di G7 metteva Sportswear. Era girata proprio una voce, è stato detto una volta. A parte, insomma, noi abbiamo un sacco di amici che lavorano per Off-White e quant'altro. Quindi è una situazione abbastanza familiare, ecco. C'era arrivata una volta una voce di una collab che poi ovviamente nessuno ha più detto nulla. Però comunque quest'idea almeno è arrivata al cervello di qualcuno. L'avete sognato un po'. Sì, esatto. Tanta roba, dai. Sarebbe stato fighissimo. No, ma anche soltanto quello che c'è già stato. Sì, sì, esatto. Molto bello. Beh, lui è sicuramente un visionario. Un padre artistico, penso, per tante persone. Ha preso proprio... Sai, ti ripeto, perché molti miei amici, alcuni miei amici hanno lavorato con lui e insomma dava proprio fiducia alle persone, no? Beh, d'altronde è uno storico, voglio dire... Sai tipo l'allenatore che prende un calciatore e lo fa diventare un campione. Quindi diffondeva proprio evidentemente questa energia positiva. Lui, se non sbaglio, ha lavorato anche per Kanye, inizialmente, nella prima versione di Pyrex Vision. Noi eravamo andati quando eravamo a New York in un negozio di questi super luxuri e c'erano le robe di Pyrex New Yorkese. Io le avevo viste tipo ad Asaprochi. Esatto. Sì, ma un paio di pantaloncini tipo costavano mille dollari. Era Pyrex Vision. Io stavo a New York anche per stare. Ho cercato ovunque. Era Pyrex Vision. Era Pyrex Vision. Sì, che prendevano... Loro prendevano i capi base di Champions. Customizzavano. Facendo il print sopra. Quindi tutte le felpe, i pantaloncini... Cioè, il pezzo forte era il pantaloncino quello da basket. Champions con scritto Pyrex davanti. Sì. Quello, proprio quello. Quello là. Anche poi si è diventato Off-White. Vabbè, la storia resta... Beh, quindi dicevo, parlando di Virgil, se parliamo di uno che è, diciamo, direttore creativo di quel discorso, molli di lì, fai Off-White. Mentre fai Off-White, ti chiamano a dirigere Witton. Insomma, parliamo sicuramente di una figura che non è esattamente... Non ne nasce ogni anno, no? No, anzi no. Cioè, ce ne stanno anche pochi adesso che riescono a dare così tante impronte, a diventare così tanti iconici. Sì. Cioè, nel nostro periodo non è che dici c'è stato qualcun altro come lui. Cioè, è stato lui, punto. Cioè, anche proprio di unire, se vogliamo... Adesso lo vedo sul monitor, la collaborazione, diciamo, tra Nike e lui è stata comunque una cosa... Stavo per dirlo. Parliamo un po' proprio di The Ten. La collezione... Cioè, pezzo preferito, proprio anche un po' tecnicamente. Io questa tra l'altro non sono riuscito a averla e mi mangio le mani ancora. Ah, io fortunatamente ce l'ho. Io mi ricordo quando è uscita questa cosa... Tu hai questa? Sì. Tipo, non ci volevo credere. Ho detto, ma quanto è figa sta roba ha preso. Una sneaker la smembrata messa al contrario. Cioè, una cosa... Poi ci stava il tag, quello di plastica. Arancione. Arancione. Cioè, proprio una cosa fighissima. che noi adesso diamo anche un po' per scontato, no? Però al tempo era tipo, vabbè, sei un genio, bro. Cioè, assurdo. Io ho questa... ho una Jordan 5 di questa... Quella grigia o quella beige? Quella beige. Ok. Questa è stata la più bella, secondo me, la prima. Questa sì, è la più iconica. Io? Io queste coni ho due, però c'ho quella bianca e quella azzurra. Questa non ce l'ho, per esempio, vedi? Ah, però figa pure quella. Sì, però questa secondo me è proprio la più bella. Questa è proprio la OG. Questa è al primo giro, se non sbaglio sci. Questa. Il primo giro, tra l'altro... L'Air Max bianca. La 90, sì. La 90 bianca che io avevo. La 90 di A, bellissima anche quella. E la Presto bianca e nera che ho. La Vapor Max c'era, la 97... C'erano tutte, c'erano. Ma non sono uscite tutte in borta. Era solo questa. E poi è uscita la collezione... Quando è uscita la roba, io mi ricordo... La Presto e l'Air Max sono uscite a tempo. Io avevo detto, senti, dammi, ho chiesto questa, e poi alla fine in realtà non me l'aveva andata. La Presto e l'Air Max sono uscite a tempo, perché io mi ricordo che avevo l'Air Max bianca e poi la Presto, quella nera, con la suola bianca. Ma voi vi ricordate che circo c'era attorno a questa roba? Cioè, ripeto, il tipo mi ha dato due... Mi aveva dato la Vapor Max e la 97. Da un block down, forse. Sì, io avevo chiesto questa e lui mi fa... Guarda che non sei riuscito. Sì, sono riuscito a darsi queste. Sì, sono riuscito a darsi queste. Poi vabbè, ne ho avute altre, appunto. Queste qua le ho avute in altri colori, ho avuto altre scarpe così. Ah, io ho la blazer, quella beige, che secondo me è andato bella. Blazer beige, l'arancia bella. Comunque hai detto una roba mica scema, la dai per scontata adesso. Cioè, è proprio... Sì, ormai te scorre tutto talmente tanto veloce. Si parte, secondo me sei arrivato a un punto dove la base si è veramente alzata tanto. Anche il target, il ragazzino. Il ragazzino di 15 anni. Oggi parte da... La Jordan normale è una cacata, mi piace questa. Piuttosto tarocca, piuttosto la compro in resell, risparmio 4 anni, piuttosto... Ma non c'è più... Faccio sanguinare le orecchie ai miei cittadini, veramente un paio. Io sono il mio vicino di casa, ma aiuti, scolta, mia figlia vuole queste. Dico, zio, questa c'è... Questa 3 mila. La trovo in resell, però esatto, la paghi due paio magari, capito? E tipo non capiscono perché costino così tante gli adulti. Non si capacita. Sì, sì. Però il problema qual è? Cioè, a differenza di... Faccio adesso un paragone che potrebbe sembrare stupido, no? Però in realtà non lo è così tanto, forse. Cioè, tutti, no? Quando magari eravamo piccolini avevamo il compagno benestante che aveva qualcosa che per noi era inarrivabile, se vogliamo, no? Io, per esempio, penso ai motorini. Io ero... Quando ero piccolo non avevo il trip della scarpa. Mi piacevano, però avevo il trip dei motori, no? Quindi magari c'era quello che era un figlio di papà e aveva il motorino super elaborato, pimpato, verniciato bene, no? Però era inarrivabile, punto, fine, basta. Cioè, io non c'avevo i soldi, sapevo che non lo potevo fare, no? Adesso ti girano i coglioni perché le scarpe vanno in resell. Quindi in realtà non sono inarrivabili. Sono inarrivabili per una questione di legami, no? Perché in realtà tu magari i soldi per prenderle... Quando esce a retail price la puoi comprare. Capito, cioè tuo padre te le potrebbe anche comprare, ma ti girano i coglioni perché ti crea questo fanatismo che poi ne parlavamo prima fuori onda e adesso si sta creando attorno a tutto, attorno agli orologi, no? Qualsiasi cosa. Questo mercato parallelo, questa esclusività di tutto quanto che sta dando valore a tutto e allo stesso tempo lo sta sminuendo perché poi ti toglie il piacere di farti una collezione. Sì, esatto, allo stesso tempo perché chi è un cultore lo sminuisce. Io magari ho la passione di questa roba di dieci anni e devo trovarmi a impazzire perché adesso la vogliono tutti anche quelli che vogliono farsi belli o peggio ancora quelli che speculano, cioè quelli che vivono di questa roba. O quelli che semplicemente hanno una possibilità economica e lo comprano, ciao. Secondo me la cosa... No, quelli che la rivendono cioè peggio ancora che poi sono quelli che ammazzano il mercato, no? Cioè io faccio sempre parallelismo con i orologi perché mi appassionano, no? Cioè questi per esempio hanno ucciso il mercato. Insomma, sta democrazia ha rotto il cazzo. No, lei ha rotto le palle la democrazia, ha rotto le palle il fatto che, come dicevo prima, tu non riesci più a goderti una passione. Cioè io voglio comprarmi un paio di scarpe perché mi piacciono e non lo posso fare perché per colpa di quelli che speculano e colpa del sovraffollamento di questo e di quell'altro siamo messi tutti sullo stesso piano. Non è certo, la casa madre cosa fai? E tu sei già un privilegiato. Ho già i canali preferenziali e ciò nonostante devo tribolare di brutto per avere delle cose, no? È vero, sì. E quindi dico, raga, però poi succede questo, ti rompi le palle, mi compro anch'io 20 stivali di palle e basta così non devo dire che non devo dare spiegazione a nessuno. Sì, esatto, perché affigo poi le prime volte tipo fammi piaccua la sneakers che me la prendo subito, chiamo, mi organizzo, poi a un certo punto dici vabbè ma perché tutto questo impegno per comprare una sneaker? Lo fai solo quando esce proprio la roba che ti piace. Esatto, c'è tanta gente vabbè chi se le risella e chi deve averla soltanto perché deve averla magari neanche gli piace particolarmente però sto facendo quella cosa te la vendono in quel modo e quindi te devi averla. Sai cosa fa incazzare di brutto? Quando poi la vedi a uno magari vestito tutto di merda con la scarpa lì. Ma io le vedo quasi più a persone. C'è un meme, no? C'è scritto tipo quel ragazzo che ha vinto la raffa al posto tuo e c'è tipo uno con dei pantaloni larghi così quella easy messa. Perché si è messo con la roba lì? È verissimo. È pazzesca quella roba lì. Se non c'era questa moda se non c'erano le pagine hypebeast così cioè questo ce l'aveva con le scarpe lì, no? Andava in giro con le New Balance probabilmente, capito? Però adesso fa figo farsi vedere sui social. O con le Diadoro. Se c'è qualcuno con le New Balance scusatemi ragazzi. Diadoro scusateci. Cenere. Senti cosa ti rocco qua. Palle, frate. Abbiamo scoperto come come noi si pagano Jordan. Beh, lui è un altro che ha riferimenti ripetuti. Ma infatti mi ricordo che Air Force è tantissimo citata tantissima. Air Force, ma Jordan pure lui ogni tanto ci beccava tipo di beccare e c'era sempre queste Jordan tipo assurde. Allora ragazzi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata ora vi lascio con un quesito. Ma come ve lo immaginate il futuro? NFT, le scarpe oppure ce le metteremo ancora? Cosa può succedere secondo voi da qua in poi? In questo ambito? Villa in campagna tre galline due gavette Moncile, Gabri io sono già vicino a quella roba lì. Mi auguro che i classici rimangano sempre che non si perda di vista la giusta via. Per rimanere parlando di Virgil lui sosteneva che fossimo arrivati all'apice quindi al declino di tutto quello che è la contaminazione tra il mondo street e la moda. Cioè nel senso che più di così non potranno mai ci potrà essere soltanto un... Probabilmente si diramerà adesso la cosa cioè la strada continuerà per conto suo e il lusso continuerà per conto pro. Cioè letteralmente lui dice una cosa tipo quante t-shirt felpe col cappuccio quante cose uno potrà mai desiderare di avere nel suo guardaroba nell'armadio prima di stufarsi e decidere magari di tornare a un... come dire a un abbigliamento probabilmente infatti ripeto tornerà tutto alle origini cioè la roba luxury dove era e la strada dove era poi sicuramente come dire non saranno mai più separati come lo erano prima perché ormai come dire ci sono incontrate hanno fatto anche tanto è nata tanta roba bella da questo conmuglio quindi non morirà mai questa però ecco secondo me soprattutto dal lato luxury ci sarà molto cioè si cominceranno a rompere le palle di questa roba street quindi tu fra qualche anno cosa dici camicia quadri ma secondo me lo sai è il momento di scegliere praticamente ma prima o poi guarda torna tutto prima o poi torna tutto cioè per dirti un brand che sono sicuro che noi tre ci siamo messi tantissimo tutti quanti che è Polo Ralph Lauren che ancora non è tornato cioè se non entra un pochino tornerà capito? che poi diciamo io le ho roccate tanto le palle non è forse neanche mai non è neanche mai sparito del tutto no però ha perso molto però non è più stata tipo la cosa tipo devo avere Polo Ralph Lauren o tipo fammi comprare roba Polo cioè magari se ce l'hai la metti cioè a me è capitato tu pensa che io ho fatto tempo a avere anche i primi periodi in cui diciamo ero entrato in questa roba dell'hip hop tutto faceva delle cose molto più per il mercato cioè molto meno europee faceva le Felp Oversights con la scritta gigante Polo faceva quella wave lì molto più vicino a Tommy se vogliamo come mondo Tommy infatti è stato poi secondo me un pochettino un'evoluzione di quella roba lì ma tra l'altro mi ricordo per esempio ai tempi prima che diciamo mi interfacciassi un po' anche al mondo dello sport e a quello in generale della maturità fisica quindi quando ero proprio un ragazzino secco secco le Polo erano soprattutto la linea Slim Fit era una delle poche cose che mi calzava veramente bene cioè la mettevo e dicevo cazzo va come mi sta bene questa maglietta l'Apollo è una di quelle invenzioni che però non tutte stiamo un po' divagando perché non hanno tutte lo stesso tipo Fred Perry per esempio non però quanto ti cambia quanto ti cambia da un Apollo una t-shirt ti dà subito l'Apollo ti dà subito un'idea di vero ti dà subito un'idea di ti pulisce subito l'Apollo ti pulisce però a questo tempo ti squadra anche non so come dire la t-shirt ti cade male non puoi farci niente l'Apollo l'Apollo incanneva abbiamo capito che il prossimo trend sarà l'Apollo sì potrebbe essere facciamo la White Polo Gang facciamo l'interno ragazzi vi ringrazio per la chiacchierata è stato un piacere noi ci vediamo ti devo sopportare per tutta la vita grazie ancora ciao a tutti bella bella ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti